Oh mio dio ragazzi, non ci posso credere, guardate chi ho trovato in un pacchetto, Cristiano Ronaldo Non ci posso veramente credere, purtroppo non stavo registrando ma, cioè, ve lo giuro sto sudando freddo Sto sudando freddo realmente, cioè qualcosa di assurdo, non l'ho mai trovato Cristiano Ronaldo in un pacchetto Non ci posso ancora credere, non ci posso ancora credere All'inizio pensavo fosse, no 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 che scarti, fermati All'inizio pensavo fosse Fabio Quentrao oppure Pepe, come è il solito insomma Poi ho visto quel 92, boh, ho acceso subito l'audio e la registrazione, cioè Vediamo un attimo quanto, 9 milioni e 6, 9 milioni e 6 Porca puttana, porca puttana, cioè, sto male, sto male proprio, sto male Potete capire ragazzi, Cristiano Ronaldo in un pacchetto Sto sudando freddo veramente, cioè Mamma mia, Cristiano Ronaldo Non ci posso, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere Il mio miglior pacchetto della storia Qualcosa di assurdo Mamma mia Cristiano Ronaldo Porca puttana Sì Sì No no no, 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 perché, perché, no Fermati, non scartare niente Madonna mia 92, no, io non ci posso credere Non ci posso veramente credere Andiamo un attimo a vedere nel club, che è più bello Non ci posso proprio credere Porca puttana Porca puttana Eccolo qua, eccolo qua, lo stronzo Madonna, Cristiano Ronaldo, 92, 92 Oh my god Lasciate un miliardo di mi piace Non lo so Fate qualcosa Condividete questo video Iscrivetevi Tutto quello che volete Non lo so Non lo so Madonna mia Cristiano Ronaldo Cioè Non so se esultare o svenire In contemporanea Comunque Cristiano Ronaldo È scarso Proprio scarso No ma Non me l'aspettavo proprio Cioè Stavo Aprendo proprio tre pacchetti alla cazzo Alla cazzo Per vedere Di trovare qualche informa Insomma qualcosa di decente Ma Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cioè Quando ho visto Cazzo 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 trovi Ronaldo Cazzo trovi Madonna mia ragazzi Mi spiace non aver registrato la reazione Ma Boh Non lo so Non lo so Lo svenimento in live No vabbè comunque Cristiano Ronaldo Non ci posso credere Non riesco proprio a esultare Perché non riesco a capacitarmi Cristiano Ronaldo Non l'ho mai trovato È strano È strano È strano Madonna Madonna mia Madonna mia Madonna mia Sudo madonna Sudo madonna Sudo madonna Sudo madonna Oh mio dio Porca puttana Ronaldo Ragazzi Mi raccomando Lasciate un mi piace Ma Cioè Veramente non so Sto male Sto male Lasciate un mi piace Comunque ragazzi Arriviamo a 100 miliardi di milioni Ci vediamo alla prossima Mamma mia Mamma mia Cristiano Ronaldo In un pacchetto Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima